Il giorno rega l'audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid. Partecipano alla seduta la dottoressa Federica Scaini del Dipartimento Salute e Ambiente e la dottoressa Rosa Draisci, direttore del Centro Nazionale Sostanze Chimiche, che ringrazio per la presenza. Comunico che l'audito ha preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Noi avevamo già iniziato, l'audizione avevamo già fatto precedentemente, adesso facciamo un aggiornamento. Io cederei la parola al dottor Brusaferro e poi continueremo anche con i miei colleghi che avevano delle domande lasciate in sospeso. Lei fa un aggiornamento rispetto all'audizione precedente. Le ho inviato anche una lettera con alcuni punti. Continuiamo l'audizione che era già iniziata precedentemente. Prego. Grazie, signor Presidente. Grazie per l'invito e per l'opportunità di condividere alcune riflessioni insieme a voi. Come ha detto il Presidente, mi accompagnano la dottoressa Traisci e la dottoressa Scaini che all'interno del nostro Istituto Superiore di Sanità si occupano di argomenti affini a quello di cui oggi stiamo parlando. Io vorrei fare soltanto una breve introduzione e lasciamo in ogni caso un promemoria al Presidente che abbiamo documentato rispetto alle istanze che ci ha fatto pervenire come argomenti di interesse. La prima riflessione che vorrei condividere, poi troverete illustrata in maniera estensiva all'interno del promemoria che viene lasciato, è la riflessione sulla possibilità di riutilizzo delle mascherine chirurgiche. Forse l'abbiamo detto l'altra volta, ma colgo brevemente l'occasione per ricordare come le mascherine chirurgiche siano un strumento normato che richiede determinati requisiti è normato a livello internazionale, ci sono vari tipi di mascherine chirurgiche la tipo 1, la tipo 2, la tipo 2R, come voi sapete e hanno determinate caratteristiche di filtrazione e di resistenza nel caso della 2R rispetto agli schizzi che sono importanti proprio perché vengono raccomandate per il personale sanitario. Quindi hanno delle caratteristiche particolari e sono fatte anche con materiale particolare. Per le loro caratteristiche, così come oggi sono realizzate per le performance di prestazione rispetto alle quali vengono richieste, questo tipo di mascherina può essere utilizzato per un tempo anche prolungato si stima che siano efficaci dalle 2 al massimo 6 ore, ma ad oggi non ci sono strumenti o metodologie che ne garantiscono il riutilizzo, così che una volta riutilizzate mantengano le stesse performance. Vi ricordo che queste sono mascherine che sono particolari, sono normate, devono avere capacità di filtraggio particolari, vengono autorizzate anche secondo schemi della Uni-En particolari che devono essere rispettate. Diverso può essere il ragionamento invece per quanto riguarda le mascherine cosette di comunità, quelle di cui spesso si è parlato, sulle quali si può ovviamente ragionare in base al tipo di materiale con cui vengono realizzate. Ricordo che queste mascherine non hanno particolari caratteristiche o standard di filtraggio che vengono raccomandati, ma sono sostanzialmente degli strumenti di barriera che possono essere utilizzati a livello di comunità. In questo caso, in relazione al materiale con cui sono state realizzate, il fabbricante può decidere o può dare raccomandazioni su come e se eventualmente riutilizzarle. Tutto questo una considerazione, quindi in realtà parliamo di mascherina chirurgica, oggi non abbiamo evidenze che ci consentano un riutilizzo con quelle di cui disponiamo, per quelle di comunità in relazione al tipo di materiale con cui sono realizzate, questo può essere valutato. Ovviamente in prospettiva, se poi il mondo della ricerca, della tecnologia, dovesse mettere a disposizione delle mascherine chirurgiche o dei filtranti facciali, parliamo FFP2 e FFP3, che però sono una categoria che qui non sono citate, con determinate caratteristiche di materiali che garantiscano le stesse performance, quelle richieste di filtraggio e gli altri standard che vengono richiesti, questo verrà valutato di volta in volta, evidentemente. Oggi questo non è disponibile, qualora lo fosse, questo è un aggiornamento che potremmo fare e si potrà valutare, sostanzialmente. L'importante però è avere chiaro questo tipo di percorso. La seconda grande categoria di domanda era quella sul tema sulle maschine chirurgiche con standard meno stringenti. In qualche modo le maschine chirurgiche non possono avere standard meno stringenti per l'uso per cui vengono raccomandate. Le maschine di comunità, viceversa, sono standard sicuramente meno stringenti. L'altra domanda era organizzare campagne di sensibilizzazione della cittadinanza a promuovere le buone pratiche. Ma credo di sì, l'Istituto è certamente impegnato, lo è impegnato anche con altri enti come l'INAIL, come ISPRA, come il Comitato Tecnico Scientifico. L'uso appropriato delle mascherine è una delle caratteristiche che dobbiamo certamente tutti perseguire. È una campagna, credo, che deve essere condivisa a livello nazionale. Questo è certamente un passaggio estremamente importante. Usare la mascherina appropriata per l'uso appropriato. Credo che questo potrebbe essere in qualche modo, se volete, un piccolo slogan da poter utilizzare. non occorre usare mascherine molto sofisticate o raccomandate in ambiti sanitari molto specifici a livello domestico, ma in base al tipo di rischio che ci può essere nei diversi contesti si può usare la mascherina più appropriata. E quindi credo che anche l'Istituto ha fatto delle campagne e ha del materiale disponibile nel suo sito. Credo che l'Istituto sia uno degli attori, non è l'unico attore. Certamente questo può essere potenziato. L'uso di, in qualche modo, utilizzare il rischio infettivo legato a imballaggi, ad altri guanti o ad altre cose. Beh, sostanzialmente il tema che noi abbiamo oggi è quello di una trasmissione che conosciamo nelle modalità e che prevede anche la possibilità di trasmissione da contatto, ovvero sia superfici che vengano in qualche modo contaminate dalle goccioline e che toccate da altri soggetti possano poi, se le mani non vengono adeguatamente igienizzate, rappresentare un veicolo di trasmissione. Credo che questa è la catena, in qualche modo, che ormai tutti conosciamo e quindi le misure che possono servire a ridurre questo tipo di contagio sono le misure che vengono raccomandate e che di volta in volta possono essere declinate in maniera più precisa e più contestualizzata, sapendo che comunque, laddove ci sono superfici che vengono igienizzate con una determinata frequenza, vengono mantenute pulite, il virus è facilmente inattivato anche da disinfettanti, come sappiamo, ma già tutti, e anche da una buona pulizia. Quindi da questo punto di vista io credo che si debba essere molto attenti da una parte alla via di trasmissione, dall'altra anche a non esagerare, perché disinfezioni eccessive poi possono portare anche degli effetti indesiderati, soprattutto se usati estensivamente e continuativamente, possono poi provocare il fatto che magari abbiamo un eccesso di disinfettanti e questi possono poi entrare in un ciclo, negli scarichi e così via, per cui dobbiamo avere quella giusta attenzione. Credo che sia una giusta attenzione che va anche sperimentata e gestita quotidianamente, anche nei diversi contesti. Il tema della riutilizzabilità di vari tipi di strumenti e materiali è un tema che certamente deve essere promosso, perché chiaramente l'idea è di ridurre anche durante il periodo Covid, voglio dire, o la fase 2, se volete, il carico, la quantità di materiale che poi generano rifiuto, però deve essere fatto con quell'attenzione che prevede da una parte, dove è possibile usare materiali che poi possono essere riciclati in qualche modo, dall'altra materiali che possono essere ricondizionati. Il tema del ricondizionamento nel caso specifico dell'infezione sostenuta da virus SARS-CoV-2 è un tema che il trattamento deve consentire l'inattivazione del virus e allo stesso tempo deve consentire il mantenimento delle caratteristiche dello strumento. Quindi, questo ovviamente è uno sforzo che deve essere fatto dai produttori e dagli utilizzatori, trovando quel giusto mix di tipologia di materiale da un lato, tipologia di ricondizionamento dall'altro, che faccia sì che, da una parte, si inattiva il virus laddove questo è un rischio e dall'altra le caratteristiche del prodotto o dello strumento che si utilizzano rimangono tali da poter continuare a svolgere la sua funzione. Credo sia una delle sfide tecnologiche che ci aspettano anche dal punto di vista dell'organizzazione della produzione o dell'organizzazione anche della nostra vita. L'ultima domanda era quella sui rifiuti ospedalieri. Voi sapete che i rifiuti ospedalieri hanno una loro caratteristica, una norma molto specifica che prevede determinati trattamenti. Oggi questi trattamenti sono legati anche a una serie, ovviamente, di aspetti logistici, economici. i trattamenti oggi in essere comunque garantiscono certamente la riduzione del rischio infettivo. Dopodiché si può decidere qual è il mix di trattamenti più adatto nel contesto in cui vengono generati. Ad oggi questo è un tema certamente importante. Il tema dei rifiuti sanitari è comunque un tema importante da sempre perché le strutture ospedaliere sono tra le strutture che generano molti rifiuti, anche perché c'è un forte, importante utilizzo dell'usaggetta proprio per evitare il rischio infettivo, ma questo ancora prima del Covid, non è un tema specifico per il Covid. E questo ovviamente è uno sforzo importante che deve essere fatto anche in questo caso per bilanciare da un lato la garanzia di pratiche assistenziali sicure per operatori e per pazienti e dall'altra anche la massima riduzione possibile nella generazione di rifiuti e soprattutto nel ciclo, nella fase tra cui, tra il momento in cui diventano rifiuti al momento in cui vengono smattiti definitivamente, sia sull'incenerimento, sia sull'conferimento in discarica dopo trattamento, beh, tutto quel ciclo deve essere garantito in maniera tale che chi è coinvolto nella gestione di questo ciclo agisca in maniera più sicura possibile, quindi riduca al massimo il rischio di contaminazione. Queste mi pare erano le domande che lei ci avevate posto, io mi fermerei qui e lascerei spazio eventuali approfondimenti a cui risponderò io personalmente, a me se sono domande molto tecniche, abbiamo anche le dottoresse che sono i tecnici specifici degli argomenti. Grazie. Sicuramente, grazie. Allora, io proseguirei gli interventi della scorsa audizione cedendo la parola all'onorevole Patassini. Il senatore Brizziarelli, non lo vedo, c'è, non c'è. Ok. Onorevole Patassini. Grazie. Grazie, presidente. Ringrazio il presidente Brusaferro per essere tornato da noi e poter concludere l'audizione che era stata sospesa la volta scorsa perché chiaramente è una questione di... Guardi, io vorrei rifarmi all'intervento che lei ha fatto l'altra volta per farle alcune domande di chiarimento anche perché noi stiamo in questa commissione guardando molto il passato e quello che è successo. Allora, innanzitutto volevo capire di più su questo gruppo di lavoro che lei ha citato all'inizio della sua edizione precedente rispetto al tema rifiuti. C'è un gruppo di lavoro che parla di rifiuti se ci potesse dire cos'è come si costituisce quando è stato composto e quali sono le attività che sono state prodotte da questo gruppo di lavoro perché poi è diventato fondamentale in questo periodo ascoltare Utilitalia gli operatori di settore tutti coloro che lavorano nel ciclo di rifiuti. Il secondo aspetto è un aggiornamento sulla questione non solo mascherine ma come le stesse per la vostra esperienza di questi mesi siano caratterizzabili da un punto di vista di rifiuto assimilabile agli urbani o rifiuto sanitario anche per le questioni di gestione trattamento e smaltimento e se confermate il fatto che il miglior metodo di eliminazione radicale del virus sia l'ingenerimento delle stesse alla fine chiaramente del percorso di gestione e trattamento e magari se come istituto superiore di sanità non solo per le mascherine in essere cioè che sono prodotte in Italia secondo vostre specifiche autorizzative ma se avete predisposto dei protocolli con forze dell'ordine enti sanitari territoriali per la verifica sul campo cioè reale delle mascherine che invece provengono dall'export perché le certificazioni chiaramente sono scritte in un'altra lingua quindi a parte un iniziale controllo all'agenzia delle dogane poi quando vengono vendute e distribuite in Italia sul territorio nazionale le stesse potrebbero cambiare e l'altra cosa che lei ci diceva all'inizio della sua edizione l'altra volta è che e questo è apprezzabile assolutamente avete sin da subito attivato collaborazioni con università regioni con ISPRA con il vostro ministero di competenza il ministero della salute vorremmo chiederle se e questa è l'ultima domanda e grazie presidente Vignaroli per la pazienza se avete qual è il prodotto normativo cioè tutta questa collaborazione poi da un punto di vista di normazione di raccomandazioni circolari schede esplicative mi dica lei nel senso qual è poi alla fine realmente come questa collaborazione si è esplicitata e in particolare nei confronti delle regioni e in particolare nella prima fase dell'accertamento delle misure di contenimento del covid grazie allora io provo a rispondere ad alcune domande generali poi lascio alla dottoressa scaini che è l'esperta entrare più nel dettaglio gruppi di lavoro diciamo che da subito praticamente agli inizi di marzo presso l'istituto abbiamo istituito una serie di gruppi di lavoro multidisciplinari con l'idea proprio di affrontare argomenti di interesse generale con mettendo insieme esperti diversi questo è un esempio insomma poi ne parleremo dei rifiuti e laddove in molti gruppi la presenza anche di esperti esterni o di società scientifiche o di regioni o di altri argomenti in alcuni casi questi gruppi di lavoro hanno prodotto quasi tutti i gruppi di lavoro hanno prodotto dei rapporti sono i cosiddetti rapporti covid che voi potete rintracciare sono disponibili sono aperti e potete rintracciare e scaricare dal sito dell'istituto superiore di sanità sono rapporti ad interim dove ad interim è stato specificato rimarcato proprio perché soprattutto all'inizio della fase epidemica ma anche adesso la realtà scientifica è in continua evoluzione e quindi i compiti di un organo di un istituto tecnico scientifico come l'istituto superiore di sanità è quello di tenere aggiornati le raccomandazioni in funzione delle evidenze che emergono questi gruppi di lavoro poi nel tempo hanno sviluppato anche collaborazioni con altre istituzioni per cui alcuni rapporti per esempio sono a doppia firma i più recenti sono INA e LIS ma ci sono stati anche dei gruppi di lavoro che stanno lavorando insieme a ISPRA e in realtà sono collaborazioni che erano già in atto per molti argomenti anche precedentemente e che nella fattispecie hanno trovato una loro chiara declinazione come risposta al covid per quanto riguarda invece il tema mascherine allora le mascherine chirurgiche la normativa è molto precisa quindi non è che noi possiamo derogare c'è una normativa per cui le mascherine chirurgiche sono identificate da una norma uni e da una direttiva C che ci dice sostanzialmente quali sono le caratteristiche di queste le trovate i dettagli poi nel rapporto che vi ho lasciato le caratteristiche che devono avere queste mascherine l'innovazione che c'è stata nella fase acuta dell'epidemia è stata che invece di avere una marcatura C e si poteva avere una laddove c'è stato il processo di riconversione attraverso una normativa nazionale della produzione quindi per facilitare la produzione nazionale si è creata un percorso diciamo facilitato attraverso il famoso articolo 15 sostanzialmente che ha delegato INAIL per quanto riguarda i filtranti facciali FFP2 FFP3 l'istituto superiore di sanità per quanto riguarda le mascherine chirurgiche quindi tipo 1 tipo 2 tipo 2R ha un processo autorizzativo che però non ha messo non ha alterato le performance quali quantitative dei prodotti quindi in realtà le performance richieste dalla norma 1 vengono mantenute viene semplicemente facilitato il processo per la loro autorizzazione autorizzazione che ha due livelli a un livello iniziale che è quello di autorizzazione alla produzione quando si mostrano dei dati di autocertificazione che sono coerenti con gli standard richiesti e poi viene seguito da un'autorizzazione all'emissione in commercio nel momento in cui ci sono vengono portate le prove sperimentali delle performance dei prodotti stessi perché c'è questa doppia valenza proprio per facilitare il processo di riconversione per non rallentare per fare in modo che laddove ci sono i requisiti iniziali ci sono si inizia a produrre e quando poi si certifica il fatto che questi requisiti sono dimostrati dalle varie prove si mette immediatamente in commercio proprio immaginato come percorso facilitante la messa a disposizione a livello nazionale di questo tipo di strumenti che vi ricordo soprattutto all'inizio dell'epidemia avendo colpito certamente il nostro paese per primo ma nel giro di pochi giorni a ruota ci hanno seguito tutti i paesi europei e tutti i paesi del mondo sostanzialmente la disponibilità di questi strumenti inizialmente è stata critica e quindi c'è stato un processo di facilità di riconversione industriale per fare in modo che la disponibilità di questi strumenti fosse adeguata negli ambiti nazionali quindi il processo di autorizzazione però vorrei ribadire gli standard di performance di questi strumenti sono quelli previsti normalmente non sono stati mai alterati proprio perché parliamo di strumenti come le mascherine chirurgiche che a un'affinità molto specifica servono soprattutto in ambiente sanitario e quindi questo è un elemento estremamente importante la ricaduta dei prodotti di quello che stiamo facendo che è stato fatto per un organo tecnico scientifico la ricaduta può essere da una parte fornire indicazioni dall'altra supportare il legislatore il governo la CTS il comitato tecnico scientifico le regioni da dove richieste con pareri supporti evidenze che aiutino o supportino in qualche modo l'adozione di misure e questo è stato quello che facciamo parallelamente come istituto dal 29 gennaio quindi ancora prima diciamo in fase epidemica al tempo si parlava soprattutto di Cina ogni mercoledì noi facciamo dei webinar con centinaia di partecipanti che affrontano tutte le tematiche a 360 gradi che riguardano il tema covid l'aspetto rifiuti qui l'abbiamo affrontato più volte proprio per fare un'opera di condivisione anche di informazione tecnico scientifica un po' a tutto il paese a questi seminari partecipano fondamentalmente è aperto a tutti i rappresentanti delle regioni i rappresentanti di società scientifiche l'intento è proprio quello di facilitare la condivisione e la conoscenza di questo tipo di informazione magari la dottoressa Scaini se vuole aggiungere qualcosa sul sistema di incenerimento e gli altri aspetti più precisi prego deve premere il microfono scusate dicevo riguardo le mascherine noi confermiamo l'assimilazione a rifiuti urbani questo perché anche la normativa l'articolo 184 del decreto legislativo 152 ci dice che i rifiuti classificati come urbani se prodotti attività possono essere classificati come urbani se prodotti in attività domestiche o attività assimilate a queste se non parliamo di questa tipologia di attività allora si potrebbe assegnare un codice speciale che è il 15 0203 dato tra l'altro molte regioni hanno deliberato ordinanze specifiche sull'assimilazione di questi delle mascherine e guanti come rifiuti urbani pertanto confermiamo la classificazione come rifiuti urbani e per quanto riguarda lo smaltimento abbiamo detto che sarebbe privilegiato l'incenerimento questo sempre se è possibile rispetto alle varie collocazioni degli inceneritori in Italia un'altra cosa che abbiamo un altro punto che abbiamo affermato nel rapporto covid specifico sulle mascherine è che comunque i contenitori che debbano appunto contenere le mascherine e guanti devono essere comunque diciamo adeguatamente localizzati e specificati che appunto in questi contenitori debbano essere riposte le mascherine usate e una volta pieno il sacco di mascherine e guanti questo prima di essere chiuso debba essere spruzzato con un disinfettante a base di alcol o di cloro in modo da eliminare qualsiasi rischio che si potrebbe venire a creare non solo rispetto al covid ma essendo dato che tra l'altro andiamo verso la stagione estiva e molto potrebbe succedere che nei sacchi si vengono a creare dei microorganismi che siano diciamo diversi dalla SARS-CoV-2 ma comunque dei microorganismi quindi per evitare questa questa ipotesi è bene dare delle spruzzate appunto di disinfettante in modo da prevenire qualsiasi rischio per l'operatore che andrà lì a chiudere il sacco e poi lo porterà al contenitore che poi verrà portato direttamente a smaltimento quanto dura potenzialmente a parte l'operatore presumo che abbia quanti misi ma potenzialmente quanto dura il virus il covid in questo caso nella nella mascherina ci sono dei studi precisi allora ci sono stati molti studi che hanno specificato come vive il SARS-CoV-2 a seconda della superficie in cui appunto si trova risponde la dottoressa Tresci perché su questo sono buongiorno sono studi ovviamente che riguardano attività sperimentali in laboratorio quindi non vanno riferiti poi alla realtà nelle mascherine nella parte interna questo studio uno dei pochi studi ha evidenziato la presenza di parti di virus dopo sette giorni dall'inoculo quindi si tratta però di un'attività sperimentale fatta in laboratorio con la deposizione di una soluzione di virus contenente virus e la sperimentazione prevedeva il rilevamento del virus nelle diverse superfici nella parte interna delle mascherine fino a sette giorni però abbiamo soltanto questo dato mentre nella plastica ho letto 72 ore alcune ore fino a qualche giorno dipende poi più diciamo dal tipo di superficie e se liscia favorisce la persistenza rispetto alle altre superfici proprio e su studi sui rifiuti in generale mischiati indifferenziati sono stati fatti degli studi? no ancora non ci sono studi ci sono alcune università che ci stanno lavorando però ancora non è uscito niente di ufficiale se posso solo sottolineare un aspetto gli studi vengono fatti in condizioni sperimentali quindi in contesti molto protetti quindi non è immediatamente assimilabile al contesto di vita normale cioè costruire un setting sperimentale ovviamente vuol dire tenerlo protetto da tutta una serie di variabili di condizionamenti dalla luce del sole ed altri fattori che evidentemente hanno un'influenza sulla sopravvivenza quindi quando parliamo di questo tipo di misure parliamo di setting sperimentali che proprio per poter avere questo tipo di dati devono fare prevedono modalità di sperimentazione che riducano al massimo i fattori di interferenza ok grazie no questo è importante perché visto che si parlava di destinazione finale dei rifiuti comunque sia visto che le filiere dei rifiuti sono abbastanza lunghe diciamo così a livello di tempistica alla fine dovunque porti quel rifiuto è molto probabile che a destinazione finale sia già comunque il virus inesistente diciamo così si era prenotato onorevole Muroni grazie presidente la mia domanda riguarda i rifiuti non sanitari ovvero diciamo i rifiuti prodotti dall'emergenza naturalmente ma che riguardano il grande pubblico quindi sicuramente di nuovo mascherine guanti ma e quindi diciamo mentre mi è molto chiaro che l'utilizzo delle mascherine è assolutamente necessario e nella scorsa in una scorsa audizione il ministro della sanità ha a lungo diciamo spiegato a questa commissione i vari tipi di mascherine e l'utilizzo che se ne deve fare e volevo fare una domanda in particolare su i guanti cioè quanto è necessario che le persone comuni indossino i guanti e quanto invece non sia preferibile un'igienizzazione continua importante durante durante la vita quotidiana però a me interessa soprattutto i rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali io ho letto le linee guida dell'istituto superiore di sanità e le ho trovato le ho trovate assolutamente diciamo le linee guida rispetto la vedo perplessa le ho trovate diciamo ottime rispetto alle indicazioni date alcune regioni hanno letto però per una loro interpretazione un invito esteso al monouso in particolare per i ristoranti bar tutti gli esercizi pubblici su questo c'è un'indicazione perché io credo che non so se voi avete visto ieri il sole 24 ore ha fatto diciamo un excursus forse un po' troppo dettagliato diciamo perché poi invece ci sono tante altre realtà che si stanno muovendo in maniera diversa però avremo un'estate in cui sostanzialmente le bottigliette di plastica torneranno in spiaggia creando un problema ambientale perché appunto quello che sta passando è che la bottiglietta di plastica è più sicura della borraccia personale cosa che a logica a me non sembra corretto però non mi permetto diciamo di dare né indicazioni né nulla però siccome appunto per esempio i bicchieri di plastica sono tornati anche qui alla camera volevo capire invece nella vita quotidiana i cittadini che vanno al ristorante se sono più tutelati dal bicchiere di plastica che poi rimane nell'ambiente oppure come si è sempre fatto da bicchieri che possono essere riutilizzati lavandoli come si è sempre fatto diciamo in maniera attenta ecco rilancio la domanda dell'onorevole Muroni non ne avevamo parlato anche prima dell'audizione nel senso il punto è questo io capisco come ci dicevamo che l'istituto superiore di sanità non è che può andare dal singolo commerciante insomma a occuparsi di tutte le casistiche però la tendenza a dire nessuno si prende la responsabilità quindi facciamo la corsa a imporre tutto lo saggetto tutte protezioni possibili questo purtroppo è un dato di fatto quindi servirebbe che dall'alto diciamo così qualcuno si prenda la responsabilità non dico di normare dal dal chiosco del cocomero come dicevo prima fino a tutte le attività ogni dettaglio però almeno di rifare il punto e magari mandare alcune linee guida o raccomandazioni per poi con gli enti con i rappresentanti di categoria rivedere un attimo la cosa perché c'è anche il terrore di dire no se non ti servo questa fetta di cocomero con con l'imballaggio di plastica mi fanno chiudere mi fanno chiudere chi quindi secondo me ci vorrebbe un impegno anche dall'alto di dare alcune indicazioni maggiori ma io provo a rispondere allora le indicazioni che nascono dai rapporti istituto ma anche dalla prima ancora dal comitato tecnico scientifico sono indicazioni necessariamente di principi e sono generali lei ha colto bene il lavaggio delle mani è la misura chiave sostanzialmente per poter affrontare per ridurre la trasmissione sostanzialmente quindi un lavaggio frequente delle mani una disponibilità estesa di dispenser per prodotti a base alcolica che consentono il lavaggio delle mani nei vari contesti è quello che si è raccomandato da sempre tra virgolette se mi consentite era anche una delle raccomandazioni presenti prima ancora se vi ricordate c'era la giornata mondiale per il lavaggio delle mani in ambito sanitario c'erano tutti strumenti che oggi sono stati amplificati dall'importanza di questa epidemia ma che erano presenti anche precedentemente tant'è che per esempio i primi di maggio c'è una giornata mondiale dell'OMS da anni aveva lanciato una giornata per il lavaggio delle mani proprio perché quello è uno degli strumenti più importanti per ridurre la trasmissione di tutte le infezioni certamente anche del covid quindi questo è un aspetto importante i guanti quindi vanno utilizzati quando ci sono determinati contesti dove si toccano superfici tipo alimenti o altre cose che evidentemente che però anche in questo caso in molte situazioni erano presenti anche prima del covid cioè evitare sostanzialmente che le mani che comunque sono le nostre mani albergano i microorganismi non soltanto il covid sono strumenti per la trasmissione di infezioni questo ovviamente non è che deve bloccarci e fare diventare fobici però deve farci mantenere quella adeguata attenzione nel pulire e nel tenere igienizzate le mani proprio per evitare questo tipo di cosa l'altra cosa l'ho detto prima nella fase introduttiva è chiaro che laddove noi vogliamo riutilizzare determinati strumenti o accessori o quello che vogliamo queste devono avere delle caratteristiche per poter essere riutilizzati condizionati in maniera sicura quindi rimossi condizionati in maniera la sicurezza è tutto l'iter condizionati in maniera sicura quindi disinfettati e una volta ricondizionati questi devono poter mantenere le caratteristiche o le performance per cui sono stati costruiti questo è un po' in qualche modo l'iter che dovremmo immaginare per qualsiasi tipo di strumento fatto questo tipo di principio generale quindi come disinfettare come igienizzare come garantire il trattamento di questi oggetti di questi strumenti così che il virus non possa sopravvivere sostanzialmente bene questo tema si poi va declinato nei vari contesti allora io credo che in questa fase in cui in qualche modo conviviamo con questo tipo di infezione anche se oggi è controllata come sappiamo credo che ci possa ci debba essere uno sforzo che ha delle associazioni anche di categoria ne accennavamo prima col presidente che in questi mesi abbiamo incontrato anche come comitato tecnico scientifico soprattutto e che hanno fatto degli sforzi enormi e anche molto qualificati nel mettere a punto protocolli nel mettere a punto raccomandazioni e credo che proprio un coinvolgimento anche di questi attori che sono fondamentali sono anche molto interessati credo e molto partecipi possa essere una delle chiavi di lettura proprio per cercare di capire nei singoli contesti uno sistema di regolamentazione che tenga conto della specificità dei contesti che necessariamente un organo centrale difficilmente poi riesce a calarsi nelle specifiche cose i principi sono quelli che abbiamo detto ovvero sia da una parte l'igiene delle mani dall'altra evitare il contatto soprattutto dove ci sono superfici di alimenti o altre cose dall'altra ancora garantire che dal momento in cui viene utilizzato qualsiasi strumento al momento in cui se non diventa rifiuto viene riutilizzato tutto il percorso sia tale da uno evitare che chi lo maneggia si infetti due una volta ricondizionato sia privo di virus e sia soprattutto mantenga le funzioni e le caratteristiche per cui è stato costruito con questi principi generali credo sia importante poi declinare all'interno di ogni contesto specifico quindi l'auspicio a meno mio personale in questo caso è veramente che le associazioni di categoria o i gestori di aspetti di grandi di specifiche settori del commercio piuttosto che della ristorazione facciano delle riflessioni specifiche magari consultandosi con esperti con le autorità sanitarie locali proprio per cercare di declinare nella maniera più sicura possibile prima di tutto ma anche sostenibile certamente una volta garantita la sicurezza credo che la sostenibilità sia un altro dei temi certamente che dobbiamo affrontare senatore darianza si ringrazio ringrazio di nuovo i professori i suoi collaboratori per le ulteriori delle uscitazioni che sono emersi a me pare nel complesso per le cose che leggiamo le contraddizioni che soprattutto rileviamo nel campo della gestione del riciclaggio dello smaltimento dei rifiuti sulla base di queste contraddizioni mi pare di capire che la comunità scientifica ha ben capito come affrontare l'emergenza sanitaria e invece anche la parte politica ancora non è chiaro come affrontare tutta la filiera dello smaltimento perché al di là dei principi che sono stati citati e che più volte sono stati ribaditi anche pubblicamente anche attraverso i rapporti la pubblica amministrazione del nostro paese non è proprio così vigia rispetto allo smaltimento di molti dei rifiuti che vengono prodotti e le contraddizioni le leggiamo tutti i giorni anche sulla stampa e mi permette da questo punto di vista due valutazioni più che domande perché poi onestamente non so neanche se siano in capo all'istituto superiore o al comitato scientifico se non per una riflessione che può essere utile a coloro che poi dovranno agire in questo comparto prima affrontavamo il ragionamento delle tante disinfestazioni che sono state fatte in giro a volte anche inutili in tante parti del paese ma comunque tra strade teatri di tutto e di più ci sono state importanti e significative disinfestazioni queste hanno prodotto soprattutto negli scarichi una quantità di elementi e di sostanze che probabilmente hanno sfasato quell'equilibrio che c'era prima e noi abbiamo dalla lettura dei giornali in alcune parti del paese dove vi sono soprattutto in alcuni scoli piccoli rivoletti delle morie particolari da parte degli esseri viventi che vi sono in questi luoghi ecco se ci sono alla vostra valutazione delle evidenze da questo punto di vista se ci sono delle valutazioni dei suggerimenti dei comportamenti dei principi che sono stati derivati a favore appunto della pubblica amministrazione secondo visto mi ha suscitato una domanda alla valutazione che ha fatto il professor Cusaferro quando diceva il Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità sono a supporto del legislatore ecco se sono emersi nel corso della vostra ricca esperienza che è stata fatta in questi ultimi mesi se sono emerse situazioni da valutare dal punto di vista normativo per ciò che riguarda il riciclaggio l'uso dei rifiuti riciclaggio ecco se ritenete visto che questa commissione ha anche questa possibilità di incidere sul quadro normativo del nostro Paese se ci sono delle valutazioni che possono essere di supporto al legislatore per andare in questa direzione grazie provo a rispondere a due argomenti poi lascerei alla dottoressa Draishi il tema della disinfezione ambientale allora il tema disinfezione è un tema molto importante laddove soprattutto c'è superfici che possono essere luogo dove albergano possono albergare il virus però la disinfezione non è neanche deve essere fatta in maniera appropriata appropriata vuol dire coi principi attivi corretti alla giusta concentrazione quelli principi attivi appropriati per quel tipo di superficie e anche deve essere valutato qual è il rischio sostanzialmente di questa superficie quindi in realtà è corretto farla poi la dottoressa Draishi entrerà nei dettagli perché c'è un rapporto specifico su questo tema che abbiamo scritto proprio sulla disinfezione anche negli ambienti e quando invece forse un po' eccessiva ecco quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio credo allora è chiaro che veniamo da una fase di acuzie dell'epidemia oggi la guardiamo con un più o più di serenità anche se con grande attenzione e quindi è evidente che all'inizio c'è stata una grande attenzione forse anche una preoccupazione insomma a fare qualcosa in più rispetto a qualcosa in meno credo che questa attenzione debba essere mantenuta in termini di grande attenzione credo si debba riflettere sull'uso appropriato anche della disinfezione è uno strumento importante necessario essenziale ma usato in maniera appropriata poi lascerai della dottoressa e rimanderei eventualmente e rimando comunque al covid riporta rapporto su questa riflessione sul tema sostenibilità che è la seconda parte della sua domanda io credo che sia un tema che dobbiamo affrontare so che c'è adesso c'è anche l'ASVIS che sta facendo dei seminari su questa cosa è un tema che certamente dobbiamo affrontare è un tema che era l'ordine del giorno credo le nostre agende prima del covid e credo che adesso anche col covid e anche per la tipologia di rifiuti che comunque in qualche modo il covid sta generando sia un tema che dobbiamo affrontare quindi credo che possa essere se vogliamo leggere in termini prospettici uno degli argomenti che anche che il covid ci aiuta in qualche modo a focalizzare meglio e anche perché rimanga una diciamo eredità nel dopo nel post covid che prima che supereremo e però alcune diciamo tipi di conquiste diciamo così o di passaggi che possiamo sviluppare durante questa fase possono rappresentare poi un'opportunità anche per continuare nel tema della sostenibilità post quindi credo che la sua domanda troverà certamente nell'istituto e questo posso dire come presidente ma anche nel comitato tecnico scientifico lo dico come membro di comitato tecnico scientifico certamente attenzione e sensibilità in questa fase quindi quello che noi possiamo fare per supportare il legislatore i ministri ovviamente noi come istituto abbiamo il ministro di riferimento il ministro della salute ma le regioni con le altre agenzie siamo ben contenti di farlo ci sono in questo momento l'avrete visto anche dalla segna stampa una serie di progetti anche di ricerca che stiamo sviluppando insieme a Ina insieme a Ispra che toccano anche l'argomento rifiuti toccano l'argomento inquinamento ambientale toccano argomenti su cui certamente che erano all'ordine del giorno precedente e che lo sono ancora soprattutto adesso che in qualche modo la curva epidemica ci consente di guardare in senso più ampio a tutto ma lascerei dottoressa se vuole entrare più nello specifico grazie in merito alla prima domanda l'istituto come uno dei primi rapporti abbiamo redatto un rapporto proprio sull'utilizzo di alcuni disinfettanti a base di ipoclorito di sodio nella disinfezione delle strade la cosiddetta sanificazione che noi abbiamo visto in alcuni particolarmente in alcuni paesi e anche in Italia il rapporto era proprio per sconsigliare questo uso eccessivo sulle strade sulle grandi superfici proprio perché in assenza anche di lavaggio delle superfici queste sostanze che sono pericolose possono interagire con le sostanze organiche presenti sul terreno e formare delle sostanze pericolose quindi l'istituto di super sanità ha emanato proprio su indicazione del nostro presidente un rapporto ad interim per sconsigliare questa pratica della sanificazione che comprende anche in alcuni casi la disinfezione cioè l'uso di disinfettanti in quel caso in particolare per le strade viene utilizzato in maniera massiva l'ipoclorito di sodio questo perché vale per le strade vale anche per gli ambienti cioè noi quando parliamo di sanificazione parliamo semplicemente prioritariamente della detersione del lavaggio delle mani o della detersione delle superfici con il sapone le mani con i detergenti le superfici il primo gesto la prima azione di controllo di prevenzione è data dalla pulizia che è la prima fase della sanificazione solo in alcuni casi laddove non è possibile intervenire con l'acqua e il detergente si può intervenire con il disinfettante che è una sostanza chimica e un uso improprio di queste sostanze chimiche può portare non solo alla formazione di sostanze inquinanti ma può portare anche a delle esposizioni e delle intossicazioni pericolose per il cittadino per l'utilizzatore quindi noi abbiamo anche raccomandato in altri due rapporti il numero 19 e il numero 25 quale era il corretto utilizzo dei disinfettanti e degli igienizzanti cioè dei detergenti e quale erano le procedure da seguire raccomandate per la corretta sanificazione senza arrivare agli eccessi di un utilizzo massivo come diceva il Presidente Fobbico della disinfezione per quanto riguarda spero di essere stata esaustiva in questo poi eventualmente potete non parlare senza microfono se no nello stenografico non è abbiamo detto chiaramente di evitare l'utilizzo di queste sostanze per la disinfezione delle strade perché non vi sono evidenze scientifiche della trasmissione della diffusione del virus attraverso per quanto riguarda il secondo punto come si diceva prima l'istituto ha operato anche prima del covid nel favorire quello che oggi noi chiamiamo l'innovazione lo sviluppo e la possibilità di riciclare i materiali per poter però riciclare i materiali dobbiamo partire a monte cioè pensare a dei dispositivi dei materiali fatti in per esempio con un solo tipo di materiale in modo tale che possano essere raccolti e facilmente riciclati e che possono diventare una nuova materia nella situazione attuale noi abbiamo dei dispositivi piuttosto complessi articolati fatti da materiali diversi che è difficile separare ecco perché i rifiuti e la raccomandazione dell'istituto come prima ha illustrato la dottoressa Scaini quindi abbiamo anche come istituto partecipato ai diversi tavoli per il ministero della salute e per il ministero dell'ambiente per quanto riguarda con Ispra gli endo-west e quindi l'approccio dell'economia circolare ci stiamo lavorando ok allora per i miei colleghi vi do una cattiva notizia diciamo così tra mezz'ora dobbiamo chiudere per cui per evitare insomma vi invito a fare delle domande sintetiche precise e secche e invito anche insomma a rispondere altrettanto allora si è prenotato onorevole Vianello onorevole Zolezzi senatore Ferrazzi e senatore Brizziarelli vi invito ad essere ok onorevole Vianello grazie presidente Vigneroli ringrazio l'istituto superiore di sanità il presidente Brusaferro per l'enorme lavoro fatto in questo periodo di emergenza devo innanzitutto comunque rilevare la bontà delle linee guide sulla sanificazione ci sembrano estremamente chiare dal stabilire appunto che diffondere ipoclorito di sodio cioè candeggina nell'ambiente non è indicato non è una pratica virtuosa per combattere il covid vorrei chiedere in tal senso se ritenete che tale parere illustre parere che avete fornito sia anche bene stabilirlo a livello di normativa in modo tale che le linee guide che sono state emanate siano in qualche maniera non infrante da magari qualche atteggiamento di insomma qualche amministrazione poco attenta per quanto riguarda invece la la il parere le linee di indirizzo per la raccolta dei rifiuti extra ospedalieri dell'istituto superiore di sanità del 12 marzo 2020 per appunto i rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al covid in tale eh in tale linea di indirizzo noi apprendiamo che i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento in quarantena queste possano continuare eh secondo appunto le gerarchie europee dei rifiuti la normativa di settore a fare le raccolte differenziate tuttavia invece viene messo in evidenza che dove sono soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria questi devono i rifiuti prodotti debbono andare invece a smaltimento nell'indifferenziato quindi poi a smaltimento negli inceneritori ecco noi abbiamo sentito nel corso di queste audizioni le aziende e ci siamo le aziende ci hanno confortato che loro attualmente sono già ma lo erano anche prima dell'emergenza covid pronte ad affrontare il cosiddetto rischio biologico ci hanno fatto un esempio loro sono pronte ad affrontare il rischio biologico nei passaggi di raccolta di trattamento dei rifiuti differenziati perché hanno diciamo fatto l'esempio per esempio di rifiuti che possono venire da un'abitazione di un soggetto positivo al virus dell'ADS ad esempio quindi loro possono già tranquillamente ricevere anche i rifiuti provenienti da case da soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria per cui a fronte di anche questa diciamo rivelazione che le aziende ci hanno fatto e che ci ha rassicurato ritenete opportuno diciamo emanare una nuova linea di indirizzo in merito a questo tipo di produzione di rifiuto urbano per continuare invece con la raccolta differenziata anziché essere conferito nell'indifferenziato il terzo ed ultimo intervento invece volevo sapere se per quanto riguarda i rifiuti ospedalieri prodotti trattati con meccanismi di sterilizzazione se sono dopo la sterilizzazione sono sicuri cioè non c'è nessun tipo di rischio di situazione vi ringrazio ancora provo a rispondere velocemente su alcuni principi in generale poi lascerei la dottoressa Scaini di entrare nel dettaglio sulla prima aspetto normativo o sulla differenziazione dell'autorità locale io credo che consentitemi di spezzare una lancia e di valorizzare quelle che noi chiamiamo autorità sanitarie locali allora il nostro servizio sanitario nazionale che in questa fase anche epidemica si è mostrato in tutta la sua forza e la sua importanza è costruito e articolato con una linea che si chiama prevenzione che voi conoscete che trova nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali una sua articolazione specificamente con professionisti specificamente dedicati a tutto il tema della prevenzione questi professionisti sono medici sono laureati chimici biologi sono tecnici della prevenzione sono assistenti sanitari sono veterinari sono medici genisti sono medici di altre specialità sono figure che sono formate specificamente proprio per rispondere a queste domande per supportare l'autorità sanitaria locale che è il sindaco allora io credo che sia molto importante valorizzare questo aspetto e fare in modo che a livello locale a livello di azienda sanitaria ma anche a livello dei comuni le decisioni che poi riguardano aspetti diciamo di igiene in senso più ampio dell'ambiente piuttosto che dell'abitato piuttosto che dei contesti vengano prese in sinergia in sintonia coinvolgendo questi colleghi quando vi ho parlato prima vi abbiamo illustrato prima le iniziative anche dei webinar del mercoledì sono esattamente rivolti ai colleghi delle regioni sono esattamente rivolti ai colleghi che lavorano nei dipartimenti di prevenzione cioè ai colleghi che lavorano in prima linea su questo argomento quindi io credo che sia molto importante che abbiamo la sensazione proprio di come il tema prevenzione nel nostro paese debba essere ulteriormente rafforzato e credo sia un aspetto molto positivo il fatto che per esempio per il contatressing sia stato adottato un criterio di risorse aggiuntive di un professionista ogni 10.000 abitanti che va a rafforzare questo sistema però credo che dobbiamo usare al meglio questi tipi di colleghi di professionisti che sono una parte importante sono un po' la spina dorsale del nostro paese per tutto quello che riguarda la prevenzione e qui mi riferisco all'ambiente mi riferisco alle acque mi riferisco a tutto quello che tocca la prevenzione ce li abbiamo sono bravi sono competenti sono diffusi in tutto il nostro paese penso possono aiutare a tutti i livelli dal sindaco alle associazioni di categorie ad avere comportamenti omogenei quello che può fare un istituto come il nostro è quello proprio di fornire degli standard di condividere con questi professionisti aggiungo un altro elemento solo per darvi l'idea ma lo potete guardare se andate sul sito dell'istituto stiamo facendo anche dei corsi FAD che hanno avuto oltre quasi 150.000 partecipanti proprio per cercare di armonizzare di standardizzare di condividere con tutti i professionisti queste competenze quindi io sostanzialmente credo che se noi lavoriamo valorizzando queste se a tutti i livelli ci confrontiamo valorizziamo queste risorse credo che si possa veramente fare in modo che in maniera omogenea nel nostro paese soprattutto in questa fase si possa standardizzare in qualche modo i processi lascerei magari la dottoressa Scaini però rischiamo che poi andiamo fuori allora io farei così comunque gli ospedalieri diciamo sterilizzati una volta se sono sterilizzati non c'è più nessun rischio se sono sterilizzati non c'è rischio perché la sterilizzazione per definizione vuol dire eliminazione di tutte le forme viventi o comunque 10 alla meno allora io farei intervenire i tre miei colleghi che sono rimasti insieme nel senso uno per volta poi rispondete alla fine ovviamente invito i miei colleghi se tante volte qualche domanda specifica non è stata risposta in maniera particolare e ci tenete insomma lo segnalate così facciamo in modo che avvenga la risposta onorevole Zolezzi sì grazie presidente grazie direttore Brusaferro e ritorno sulla domanda che avevo iniziato la volta scorsa lei mi aveva anticipato che sui dati epidemiologici c'era proprio in quei giorni un'eventuale decisione se rilasciare qualche dato aggiuntivo io segnalo appunto che il 30 maggio è stato pubblicato anche se in forma di preprinti però peer review lo studio sulla presenza sull'esistenza del virus nel particolato di Bergamo ci sono reti anche internazionali come Rescop come gli universitari del San Raffaele di Milano che se avessero qualche dettaglio in più a livello comunale casi ricoveri ricoveri in terapia intensiva decessi potrebbero andare avanti con alcuni studi che hanno uno spessore anche internazionale chiedeva appunto a che punto è la decisione del rilascio di questi dati e sui rifiuti sanitari sterilizzati in ospedale a questo punto visto che sono sicuri se non ritenete di stimolare forse una maggiore diffusione di queste attrezzature per la sterilizzazione presso gli ospedali che probabilmente fanno circolare di meno i rifiuti ma anche lo stesso virus grazie senatore ferrazzi molte domande sono già state poste quindi rimane questa molto concretamente e non ho ancora capito da tutte le audizioni che sono state fatte se un cittadino è malato di coronavirus e sta in casa non è ricoverato qual è la procedura per la raccolta dei dpi che utilizza delle mascherine di tutto quello che può essere contagiato ma operativamente non a livello generale cioè ad oggi se succede una cosa di questo tipo l'azienda che gestisce il trasporto locale ha una procedura ha un protocollo come viene gestito come viene gestito tutto il processo appunto a valle di questo caso grazie senatore Brizziarelli sì grazie presidente due questioni puntuali e precise la prima sempre sui rifiuti ospedalieri sulla domanda a quale ha risposto relativamente alla sterilizzazione come sa fra poco sarà modificato il procedimento perché il collega Zolezzi ha presentato l'articolo 30 bis a liquidità che prevede una modifica nella gestione ancorché per le periodi di emergenza nel mese successivo dei rifiuti ospedalieri peraltro all'interno del decreto di liquidità volevo sapere se su questo era stata chiesto parere e cosa ne pensasse del funzionamento fino ad oggi e dell'eventuale costo-beneficio della modifica a livello legislativo in rapporto a questo specifico passaggio la seconda domanda lei ha dichiarato pubblicamente almeno in un paio di occasioni che c'è un rischio relativo al potenziale rischio dello smaltimento illecito di reflui non trattati il fatto che ci siano reflui non trattati può portare a dei rischi sul piano sanitario volevo sapere su questo se era un discorso generale e eventualmente se c'è un rapporto diretto e un aumento del rischio relativamente all'emergenza covid grazie senatore lorefici all'ultimo sì grazie presidente allora volevo se possibile un approfondimento sul sulle tecniche di sanificazione disinfezione di ambienti interni ma anche dei mezzi di trasporto collettivo ambulanze e in particolare sulla efficacia dell'utilizzo dell'ozono o dei generatori di ozono e delle lampade ultraviolette visto che ci sono informazioni discordanti e se non erro invece voi come istituto superiore di sanità le ritenete non efficaci per la rimozione comunque la neutralizzazione del virus e della carica virale comunque le aggiungo anche qualche informazione in più perché mi sono arrivate alle segnalazioni da operatori del 118 che si lamentano che le ambulanze vengono sanificate con generatori di ozono e spesso forse perché non procedono ad adeguata ventilazione quando utilizzano i mezzi hanno dei problemi di irritazione specialmente alle mucose oculari e così via grazie ok non si è prenotato nessun altro io concludo anch'io così poi lasciamo la parola in pratica devo dire che il ministro Speranza è stato forse anche un po' più categorico di lei sul fatto della permanenza cioè sul contagio ha detto prevalentemente quasi esclusivamente il contagio avviene tra persone e non tanto sulle superfici lo dico questo per rafforzare insomma il quadro generale dove a maggior ragione a volte come abbiamo un po' detto diciamo sì è un po' esagerato l'uso di particolari imballaggi dei guanti come i supermercati insomma alcune pratiche sono esagerate e a maggior ragione di questo io ho paura giustamente anche con lei ci siamo detti anche se dovessi sentire le associazioni di categoria ho paura che nessuno si prende ormai la responsabilità di rivedere alcune pratiche e andare a ribasso diciamo così questo è una paura quindi le chiedo se magari ci possiamo anche lavorare insieme insomma se potete darci una mano per fare in modo che ci si metta nelle condizioni di poter rivedere qualcosina se è possibile il fatto di esagerazione con i guanti imballaggi questo problema che alla lunga potrebbe pesare ripeto io ho già i guanti che volano quasi da soli questi guanti che sono così leggeri che sì c'erano già ma c'erano già per frutta e verdura e non a prescindere se entri dentro al supermercato che ti fanno sia lavare le mani che mettere i guanti ho visto gente con tre o quattro guanti uno sopra l'altro cioè stiamo un po' esagerando quindi chiedo una mano e anche quei documenti che aveva citato prima magari sono interesse per la commissione se poi magari ci fornisce ci dà una mano insomma ce li dà perché insomma ci teniamo come commissione a fare in modo che perché ho visto dal commerciante che magari è la polizia locale che lo controlla poi c'è la regione poi c'è insomma una serie di di controlli e di enti che magari neanche comunica tra loro che per non prendersi la responsabilità devi mettere questo devi fare questo devi fare questo e giustamente il commerciante dice se no mi fanno aiutere quindi rivedere alcune alcune cose ove possibile ovviamente ci mancherebbe prego allora approvo parto dall'ultima domanda la risposta è sì noi siamo ben felici di collaborare lo dico sicuramente come istituto come organo tecnico scientifico del servizio sanità nazionale chiaramente siamo ben felici di lavorare col Parlamento con tutte le articolazioni proprio per lavorare a questo e proprio i nostri rapporti sono ad interim dire ad interim ripeto c'è un aspetto scientifico ma anche c'è un aspetto come ci siamo fortunatamente detti anche di evoluzione della curva epidemica che c'è nelle varie fasi ci deve far prendere delle decisioni più appropriate a quel contesto quindi la risposta è sì siamo ben felici troviamo nei modi vi faremo avere tutto il materiale di competenza ma anche qualsiasi parere qualsiasi supporto qualsiasi collaborazione magari congiuntamente per questo tipo di tematica anche con Ispra da parte nostra certamente la massima disponibilità e la massimo supporto nel definire strategie che aiutino l'intero paese anzi anche le sollecitazioni che ci sono arrivate alle vostre domande sono certamente utili perché in qualche modo rappresentano anche un po' la realtà del nostro paese e anche la volontà credo molto positiva o io la giudico tale di voler proprio procedere anche in quei valori di riduzione del carico ambientale o di riduzione per favorire in qualche modo della sostenibilità dati onorevole Zolezzi sì stiamo il dato fermo restando che io da ricercatore non posso che essere favorevole ovviamente a condividere i dati in realtà noi abbiamo delle normative come lei sa stiamo lavorando su queste normative che ci consentono o non ci consentono di mettere a disposizione alcuni dati e altri e noi viaggiamo l'istituto in realtà lavora all'interno di mandati che arrivano o da ordinanze della protezione civile piuttosto che da decreti ministeriali e alimenta poi dei flussi in accordo con le regioni in collaborazione con le regioni che mette poi a disposizione del decisore o del livello politico piuttosto che il livello amministrativo questi da parte nostra certamente ovviamente noi non abbiamo tutti i dati abbiamo alcuni dati per quanto mi riguarda nel momento in cui ci sia l'ok e la normativa lo consenta siamo ben felici di condividerli proprio che lo faccia parte dello spirito del ricercatore siamo però come lei sa ci sono alcuni elementi di normativa attuale che richiedono dei passaggi e che speriamo che vengano smarcati tra virgolette domanda sterilizzazione o no qui magari potrà parlare di più la dottoressa Scaini io le faccio solo una battuta avendo un po' nella mia bagaglia esperienziale anche questa tematica la sterilizzazione è un sistema non è l'unico sistema bisogna poi credo vada contestualizzato vada analizzato probabilmente anche uno di quei temi dove vale la pena riflettere in prospettiva al di là del covid voglio dire perché comunque gli ospedali sono dei grandi produttori di rifiuti e comunque anche post covid le malattie infettive ci saranno e quindi in realtà vanno comunque la presenza di microorganismi ci sarà e va gestita quindi credo che quello che lei lancia sia forse anche una opportunità di uno studio un approfondimento anche con le amministrazioni locali con le società scientifiche con le università proprio per valutare i percorsi migliori che possiamo immaginare in questo momento io non mi sentirei di darle uno o l'altro ma credo che il passaggio sia da contestualizzare per quanto riguarda i reflui poi lascio magari alla dottoressa le altre domande i reflui non trattati francamente faccio fatica a ricordare se il tema è in alcuni reflui possiamo aver avuto delle concentrazioni di disinfettante importanti che ne avesse parlato prima anche la dottoressa Draishi in alcuni casi eccessive concentrazioni di disinfettanti poi possono comportare anche degli effetti indesiderati in tutto il ciclo della gestione dei reflui quindi in realtà questa è un po' la preoccupazione devo dire che dobbiamo forse ho espresso non mi vengono in mente altre cose per quanto riguarda invece le tecniche di sanificazione qui abbiamo la dottoressa onorevole Orefice Draishi che magari entra nel dettaglio lei ha fatto per un esempio molto illuminante tutti i sistemi di disinfezione l'ha detto prima la dottoressa Draishi ma potrei entrare perché lei è un'esperta proprio di questo argomento tutti i sistemi di disinfezione ovviamente devono essere usati con cautela in maniera professionale e con del rigoroso rispetto delle norme e alcuni più di altri lo zona in particolare richiede una personalità una capacità di gestione e una garanzia che tutto il ciclo venga fatto in maniera appropriata non è diciamo uno strumento facilissimo cioè non è come passare uno strofinaccio per capire ecco è una realtà che va gestita da gente esperta con competenza con protocolli precisi se no è meglio non farlo perché il rischio a quel punto rischia di eccedere quindi bisogna poi magari ne parlerà lei nei nostri rapporti viene sempre specificato molto bene che ogni processo di disinfezione ha ovviamente i punti di forza ma anche i suoi punti di attenzione laddove viene richiesto sapere come lo fai professionalità competenza linee guida esperienza nel farlo perché viceversa rischia di invece di diventare uno strumento di aiuto rischia ti aiuta da un lato ma ti può creare passaggi anche dall'altro chiuderei prima di lasciare poi alle dottoresse le altre domande ribadendo il piacere di collaborare e la piena disponibilità da parte dell'istituto ma ribadisco credo anche se io ne sono solo un membro tutti i colleghi del comitato tecnico scientifico per lo spirito con cui ha caratterizzato il nostro lavoro fino ad oggi certamente la massima disponibilità a supportare la riflessione l'approfondimento lo studio la fornire conoscenze su questo tipo di argomenti magari dottoressi se volete grazie innanzitutto avverto i miei colleghi che l'ufficio di presidenza lo rinviamo la prossima volta prego allora parto anche io un po' dalla fine per quanto riguarda i reflui è stato dimostrato che in alcuni reflui è stato trovato parte di virus RNA di virus e in realtà tutti i reflui devono essere controllati quindi noi abbiamo detto di rafforzare i controlli per quelli che sono gli illeciti gli smaltimenti illeciti dei reflui quindi forse era questo che intendeva l'onorevole per quanto riguarda la domanda specifica di come che fine fa il rifiuto di una persona infetta quindi positiva al tampone che sta a casa diciamo che nei nostri nei nostri nei nostri rapporti è stato credo abbastanza definito comunque la persona che sta a casa se è in grado dovrebbe che sta abbastanza bene dovrebbe mettere i suoi rifiuti indifferenziati nel doppio sacchetto a quel punto il gestore che si occuperà della raccolta verrà avvertito che in quella casa c'è una persona malata in quel caso quindi il gestore si procurerà dei mezzi specifici soltanto per la raccolta di quel tipo di rifiuto quindi andrà l'addetto appunto dell'azienda municipalizzata direttamente o in casa o comunque nel palazzo se è una raccolta porta a porta oppure su cassonetti stradali ma saprà che quello è un rifiuto proveniente da una casa dove ci sono persone infette se la persona invece non è in grado perché magari non sta particolarmente bene in quel caso ci saranno degli addetti che possono essere degli addetti dei volontari però specializzati che potrebbero essere della croce rossa della protezione civile che quindi andranno a ritirare questi sacchetti direttamente nelle abitazioni fuori dall'abitazione del malato e lo porteranno al cassonetto stradale oppure alla raccolta che potrebbe avvenire anche in questo caso porta a porta quindi tendenzialmente l'azienda sa che viene a sapere che in quell'abitazione c'è una persona malata per quanto riguarda il nostro primo parere quello del 12 marzo noi appunto abbiamo detto che tutti i rifiuti delle persone positive al tampone devono essere non devono essere più differenziati ma devono essere messi tutti nell'indifferenziata questo perché appunto non si conosce ancora bene la sopravvivenza del virus sì è vero che molte superfici dura da poche ore a svariate ore ma la percezione del rischio purtroppo è quella che diciamo prevale sia per la popolazione che per l'operatore e quindi nella realtà dei fatti si dovrebbero considerare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio effettivo e quindi dovrebbero seguire le procedure del DPR 254 ma poiché questa cosa non è plausibile e fattibile per tutta la popolazione si è deciso in via precauzionale di considerarli tutti indifferenziati e di preferibilmente portarli a smaltimento se ciò a incenerimento scusate se ciò non è possibile certamente andranno ad impianti di trattamento meccanico-biologico evitando comunque tutta diciamo la manipolazione da parte del personale magari c'è un po' di discostamento probabilmente tra teoria e pratica vedremo non ci sono altre richieste di interventi quindi siamo stati diciamo puntuali di chiaro dove aggiungere sì sì prego abbiamo sulla sanificazione avevamo già prima illustrato parte del nostro rapporto è stato recepito dalla circolare del 18 marzo del ministero della salute per proprio sconsigliare l'uso dei disinfettanti nelle strade esiste poi è stato eredato un rapporto numero 25 sulla sanificazione che spiega tutti i processi in merito all'ozono come ha detto il presidente l'ozono non è oggi un disinfettante non può essere classificato tale come l'ozono che è una sostanza generata in sito anche il cloroattivo sono all'attenzione dell'agenzia europea delle sostanze chimiche nel senso che sono oggetto di valutazione come biocida cioè come sostanza che inattiva i microrganismi uccide i microrganismi ma ad oggi non è stato completato l'iter di valutazione pertanto non può essere dichiarato un disinfettante secondo una circolare del ministero della salute del febbraio 2019 tutte le sostanze che sono all'attenzione degli stati membri come biocidi e quindi sono sotto il regolamento biocidi non sono disinfettanti vengono classificati come sanitizzante questi erano i chiarimenti che noi abbiamo dato in questi nostri rapporti sulla sanificazione l'ozono è una sostanza estremamente pericolosa non può essere utilizzato viene generata in situ da delle attrezzature non può essere utilizzato in presenza di personale ma deve essere utilizzata da personale specializzato con i dispositivi di protezione di classe 3 e gli ambienti dove i piccoli ambienti diciamo aree che sono vengono trattati non devono essere riutilizzati prima di un certo numero di ore proprio perché quell'effetto che aveva illustrato il senatore l'onorevole ha evidenziato questi effetti di irritazione di esposizione di intossicazione per chi utilizza gli ambienti gli automezzi quindi è necessario che ci vi siano tutte queste precauzioni altrimenti è bene utilizzare altri tipi di sanitizzanti bene dottoressa per le lampade UV avevo chiesto anche per gli ultravioletti le lampade UV è un dispositivo già in uso dal 90 sulla base di altre epidemie che ci sono state e per alcuni dispositivi addirittura per IDP possono essere efficaci ovviamente ogni sistema o disinfezione con sostanze chimiche riconosciute come biocide o di sanitizzazione deve essere valutato in base a quelli che sono i benefici i vantaggi ma anche gli svantaggi quindi fare una selezione di quelle che sono le tecniche di decontaminazione e di sanitizzazione e se proprio sono inevitabili allora in quel caso adottare tutte le precauzioni e fare in modo che chi fornisce questi dispositivi dia tutte le schede tecniche e le schede date di sicurezza per tutelare chi utilizza gli operatori i professionisti che in questo caso devono essere qualificati per quanto riguarda le sostanze generate in sito per quanto riguarda le lampade possono sono e dimostrato da alcuni studi che sono efficaci quindi laddove è possibile o è inevitabile fare una valutazione tecnico-scientifica e socio-economica non so se sono stata esaustita bene io ringrazio tutti per la disponibilità e dichiaro chiuso l'audizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti